Ben rientrati in studio per la pagina sportiva, ci occupiamo di ipica presentazione a porte aperte della stagione delle bettole e ovviamente con ingressi contingentati nel rispetto della normativa anti-covid. Vediamo il servizio. Solo mille spettatori, oltre a circa 200 addetti ai lavori, potranno partecipare alle 16 riunioni dell'estate alle bettole che andranno in scena a partire da giovedì 2 luglio secondo il protocollo operativo per la gestione delle corse ipiche a porte aperte durante l'emergenza covid-19. Ecco tutti i dettagli dalla voce di Giorgio Tosi, direttore dell'ippodromo. Il protocollo prevede l'entrata di mille persone più gli operatori, per operatori intendiamo naturalmente gli allenatori, i fantini, gli artieri, quelli che lavorano all'interno dell'ippodromo, quindi gli addetti alle gabbie, ai passaggi, al ristorante, i nostri dipendenti della Varesina, cioè i mille più quelli che lavorano sostanzialmente. È prevista un'entrata e un'uscita, come prevede il protocollo. L'entrata sarà da viale ipodromo e l'uscita dal piazzale. All'interno dell'ippodromo sono previsti dei passaggi, dei percorsi e soprattutto sulle tribune dove ci dovrà essere la salita e la discesa. naturalmente l'ippodromo sarà tappezzato da inviti a mantenere le distanze, a portare la mascherina, a evitare assembramenti, questo in generale per il pubblico. Per quanto riguarda la parte relativa agli addetti ai lavori, quindi ai cavalli, dentro il tondino e dentro l'insellaggio dovranno rimanere unicamente e soltanto gli artieri, gli allenatori e i fantini, più un proprietario per ogni cavallo, per il quale è previsto la postazione sopra le tribune centrali, la tribunetta centrale della Clubhouse e il resto non sono previste le premiazioni, non sono previste assembramenti, sono previste 6 o 7 postazioni con il Pesiglass davanti agli operatori, in modo tale che non ci siano problemi. Altro particolare a proposito del gioco, praticamente avendo noi l'agenzia IPICA tutti i giorni, quando ci sono le corse l'agenzia IPICA chiuderà alle 17, cominciando alle 19 e l'agenzia IPICA si trasferirà all'esterno dove abbiamo allestito dei pannelli, dei monitor nei quali si vedranno tutte le quote e anche le corse di tutti gli ipodromi italiani. Il presidente della società varesina, incremento corse cavalli, Guido Borghi, punta ancora a portare il trotto alle bettole, ma intanto reclama un ruolo di primo piano per il suo ipodromo. Il ministero ci dà meno soldi, ci dà meno corse e ci fa sempre soffrire e questo non è giusto, dando peraltro questi soldi ad altri ipodromi che non ne hanno il merito. Gli allenatori di Galoppo sono propositivi, anche se l'orario delle corse, 6 per riunione a partire dalle 19, non sembra entusiasmarli troppo. La fascia oraria, prima di tutto la varesina avrebbe voluto cominciare prima per ovvi motivi. Tutti noi ci siamo un po' imposti perché non è solamente l'inizio delle corse che è una cosa, ma c'è anche il trasporto. Chi arriva da Milano o dal circondario deve partire da un certo orario. Se si comincia alle 7.05, come siamo riusciti a fare, c'è un valore. C'è un valore perché la varesina riesce a risparmiare un pochettino sulle luci e noi riusciamo a partire in un orario apprezzabile, a correre in un orario apprezzabile. Perché se andate a guardare un attimino quelle che sono le temperature medie, sono veramente pesanti. Se pensate a partire a Milano, che si deve correre 6, deve partire a mezzogiorno e mezza, una, arrivare qua, andare sotto lì. Quindi siamo riusciti ad arrivare a un compromesso. contenti di essere arrivati ad un compromesso, eravamo più contenti, si partiva alle 7.30. Però, d'altra parte, diamoci una mano. Anche con la pagina sportiva abbiamo dunque terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.